Ciao, sono Elena del negozio hobby di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. Oggi ti presento questo set Enel, con due avvitatori più una smerigliatrice batteria, tre prodotti indispensabili per il fai-da-te. Il set sarà in offerta a 129 euro e 90 centesimi, fino al 22 agosto, in tutti i nostri negozi. Eccoli qui. Il set è composto da tre articoli, un trepano avvitatore, un avvitatore impulsi e una smerigliatrice angolare. Prima di utilizzare questi elettro utensili, ricordati di indossare sempre i dispositivi di protezione individuale. E ora, scopriamoli insieme. Partiamo dal trepano avvitatore. Può essere utilizzato su ogni materiale, dal legno tenero fino ai muri in cemento, sia per operazioni di montaggio che di smontaggio. Ha una presa con impugnatura morbida, una luce led ed un mandrino da 10 mm, compatibile con tutti gli accessori per trapani avvitatori. L'avvitatore impulsi, invece, è ideale per avvitare viti lunghe, per fissare travi, tetti e pergolati. Ha un attacco porta-bit, tre luci led ed un potente motore da 2300 giri al minuto. Infine, la smerigliatrice angolare è molto utile per tagliare piastrelle o tondini in ferro, smerigliare cancellate e rimuovere ruggine. È compatibile con tutti i dischi con diametro di 115 mm e ha una profondità di taglio di 28 mm. Tutti questi prodotti funzionano a batterie intercambiabili, che sono incluse così come il caricabatterie rapido. E questo è tutto per il set Enel con due avvitatori più smerigliatrice a batteria. Spero che questa presentazione ti sia stata utile. Se hai bisogno di utilizzare un'informazione o per acquistarlo, puoi venire a trovarci in negozio o consultare il sito obi-italia.it. E adesso è ora di trovare nuove soluzioni. Grazie per la visione!